Nel video di oggi, vi racconteremo cosa è accaduto a Teresa, una partecipante del popolare game show televisivo, Affari Tuoi, di Rai 1. Durante la trasmissione, Teresa è stata protagonista di un momento intenso quando il marito ha manifestato pubblicamente il suo disaccordo riguardo alle sue scelte. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. In una delle ultime puntate del programma, Affari Tuoi, Teresa e suo marito Francesco, provenienti da Matera, hanno rappresentato con orgoglio la regione Basilicata. Nonostante un inizio difficile, con la perdita di diversi pacchi rossi, la situazione si è fatta più tesa men mano che il gioco proseguiva. Con solo 4 pacchi blu e uno rosso rimasti, il dottore ha offerto loro solamente 7000 euro, una delle proposte più basse mai fatte nel programma. Nonostante le pressioni del marito e lo stupore generale, Teresa ha accettato l'offerta, rivelando poi di avere vinto ben 50.000 euro nel suo pacco. Questo ha scatenato una forte reazione sui social, con molti commenti di stupore e critica. Teresa, di fronte al conduttore Amadeus, ha nascosto la sua delusione, dichiarando di essere comunque felice per i 7000 euro vinti. Questo ha generato un acceso dibattito sia in studio che tra il pubblico a casa, riflettendo sulle diverse reazioni alla sua scelta. E voi? Cosa pensate dell'azione di Teresa? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lasciate un mi piace al video. Grazie per il supporto.